Ciao, sono Marina, avete visto la mamma? Ciao, sono Pedro, avete visto la mamma? No, ti avisci un caffè? Sì, tieni Pedro, grazie, tieni. Sì, andiamo a cercare la mamma? Avete visto la mamma? Avete visto la mamma? Puntata numero due di Marina cerca la mamma. Ciao, sono Marina, avete visto la mamma? Ah, avete visto la mamma? No, no. Purtroppo la porta, chi sarà mai? Sarà la mamma? No, ciao, sono Pedro. Ciao, Pedro, avete visto la mamma? No. Tieni il caffè? Sì. Puntata numero due di Marina. Sì, non lo faccio, non lo faccio. Tieni, grazie. Tieni. Buono? Certo. Un attimo. Ok. Andiamo a cercare la mamma? Sì, andiamo a cercare la mamma. 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 no puntata numero 18 marina cerca la mamma ciao ciao sono bello si ho chiesto che siamo noi buono grazie non mi scala la mamma puntata numero 1238 di marina cerca la mamma ciao 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 No, Pedro! No, sì, tu è che vuoi! Ok, ok, vai a palla! Ok, vai a palla! La mamma! La mamma! La mamma! La mamma! Puntata 1 di Mamma cerca Pedro! La mamma! La mamma! La mamma! La mamma!